Teatro Notraghi Teatro Notraghi Teatro Notraghi Teatro Notraghi Teatro Notraghi Teatro Notraghi I figli sono delle madri Stretti al petto Senza smesso di respirare di terra e di sale, il progetto che presentiamo questa sera, è un viaggio, il racconto di un viaggio di uomini che vengono spinti, respinti dalle protetelle di appartenenza, come quegli uivi nodosi che spaccano in quelle loro netteci la terra per fuggire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Piange, urla, non la smette, nemmeno piampato al seno della madre, con il moccio al naso e quello dove, quello dove riprende il cuore, l'antica, la madre, una bimba poco più grande di lui, lo stringe al seno, per un po' piange con lui, mi guardano, cosa vogliono? forse è l'ultimo pezzo di padre, potrei, potrei dare, ridatteri, 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 perché tanto si arriva, poche ore, poche ore, poche ore per tutti e poi, e poi si arriva, da qualche parte, da qualche parte, da qualche parte si arriva. con l'isola fortunata, zè, è il galleccio del sol, una prigione, zè, è la battanza, la battaglia di Muttite, il nome dame, non ripopola, si mangia. ahhh 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 Grazie a tutti.